Sesta edizione di Città Sant'Angelo Music Festival, Alessandro Mazzocchetti, direttore d'orchestra, di che cosa si tratta? Città Sant'Angelo Music Festival è una manifestazione di musica classica, quest'anno di opera lirica, in particolare il Don Pasquale di Donizetti, che parte domani, tre serate, 18-19 e 20 luglio, a Città Sant'Angelo, al Giardino delle Clarisse. Nello specifico il titolo di quest'anno è il Don Pasquale di Donizetti, nella regia di Manuel Renga, che ha riambientato l'opera negli anni 20-30 del proibizionismo americano, quindi vedrete tutta una scenografia molto particolare e molto bella, a mio parere, all'interno del Giardino delle Clarisse. La compagine orchestrale sarà l'orchestra del Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara. Con noi avremo un cast d'eccezione, nel ruolo del titolo il Matteo D'Apolito, quindi nel ruolo di Don Pasquale, nel ruolo di Ernesto Matteo Mezzaro, nel ruolo di Malatesta Guido Dazzini, due studentesse del Conservatorio faranno il ruolo della protagonista femminile di Norina, nel dettaglio Claudio e Nicol Calabrese, nelle date del 18-20 e Jessica Ricci, nelle date del 19, e a chiudere il cast il notaio di Valerio Morelli, un altro studente del Conservatorio di Pescara. Ecco, ingresso a pagamento con biglietti che possono essere acquistati sui circuiti comunque dei bar e tabaccherie del paese. Sì, o anche scrivendo alla mail csamusicfestival.com Come va allora nel post-pandemia questi eventi? State ripartendo, si soffre, ecco, qual è la situazione adesso? Ma innanzitutto siamo veramente contenti di essere riusciti a ripartire perché la situazione è, sappiamo tutti quella che è, noi ce l'abbiamo fatta, prima di cantare Vittorio ovviamente aspettiamo la fine delle tre recite, però sicuramente siamo contenti e soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto. Poi adesso il giudizio sarà del pubblico che spero accorrerà numeroso queste tre serate. Sant'Angelo è ricca di scorci meravigliosi e di punti veramente scenografici e adatti a tutti i tipi di musica, dalla musica da camera, alla musica lirica, alla musica sinfonica. Noi abbiamo scelto il giardino delle Clarisse, cambiando un po' diciamo l'orientamento naturale del giardino per sfruttare un balcone che diventerà poi la casa di Don Pasquale, quindi veramente è molto legato alla location, alla nostra scenografia.